Iniziano oggi le quattro giornate di corso di Bonton organizzata da Assunta Carlino, responsabile del Parco Fattoria Rosario Carimi di Castelvetrano. Quattro giornate interessanti in cui Galateo e Bonton saranno gli oggetti principi, proprio specifici. Sì, mi hai detto perfettamente. Io innanzitutto volevo ringraziare comunque il Comune di Castelvetrano per aver patrocinato l'evento. E' un ringraziamento particolare anche alla regione siciliana, nello specifico l'assessorato turismo, sport e spettacolo. Sì, come hai detto tu, il Bonton e il Galateo saranno punti cardini di queste quattro giornate. L'idea è nata proprio da una mia volontà di poter organizzare questi corsi. E quindi tramite una ricerca sul web ho contattato il migliore che ci possa essere in campo nazionale, che è appunto il maestro Presutti. E quindi da lì, da questa telefonata, da questa comunicazione, è nato tutto il progetto. E quindi eccoci qua alla realizzazione fattiva delle giornate. Le iscrizioni so che sono state tante, quindi saranno quattro giornate piene sia di adulti che di bambini. Sì, sì, abbastanza. Diciamo che la tematica non è molto ecco conosciuta, se così si può dire, nel senso che tantissime persone erano molto scettiche. Comunque abbiamo preparato una bella brochure con tutti i programmi che ci ha dato modo di far capire alle persone effettivamente di che cosa si parlerà. E quindi sì, devo dire che abbiamo avuto un riscontro abbastanza positivo. In futuro ci saranno altri incontri del genere, immagino? Sì, in futuro ci saranno altri incontri sicuramente e che incontri che sicuramente saranno ancora con molte più persone, perché secondo noi queste prime giornate non faranno altro che aprire, diciamo, un po' la strada per la riuscita dei prossimi corsi. Come saranno organizzati questi quattro eventi, queste quattro giornate? Bene, grazie. Si partirà con il percorso esperenziale donna fata strega, si poi proseguirà con un corso di galateo dell'allestimento della tavola della mise en place per i bambini delle elementari, si proseguirà con un corso di galateo matrimoniale per le future spose, concludendosi poi con un corso di galateo e bonton per gli adulti, che prevederà una parte iniziale base per poi passare a una fase invece di approfondimento degli argomenti più importanti. Galateo e bonton sono alla base appunto per adulti e bambini, soprattutto per i bambini, per avere una società migliore? Assolutamente sì, perché i bambini sono il seme della società che via via si evolve. I bambini devono assolutamente essere messi in grado di conoscere, sin dalla loro piccola età, le regole importanti di comune convivenza, di rispetto, di riscontro già educato a scuola e nella famiglia, per poi diventare cittadini modello di una società che ha tanto bisogno di cambiamento. Tra queste regole abbiamo sentito c'è anche l'utilizzo del cellulare, come utilizzarlo e in che modo? Il cellulare ormai è divenuto una sorta di estensione della nostra mano e non ce ne accorgiamo nemmeno, lo teniamo sempre così a giocherellare tra le mani, senza renderci conto che il cellulare è il modo di entrare nella vita degli altri tramite short message, tramite telefonate e quindi è un qualche cosa di importante ma anche di invasivo. Quindi utilizziamolo, tenuto conto di questa sua capacità, sempre senza creare motivo di disturbo agli altri e soprattutto evitiamo di tenerlo a tavola tra le mani perché il cellulare è sporco, lo teniamo in tasca dove ci sono monete, soldi e quant'altro, lo maneggiamo nel corso di tutta la giornata, quindi almeno a tavola il cellulare lasciamolo riposto dove deve essere. Iniziano oggi i corsi di Bonton organizzati dalla Sunta Carlino Evans, come mai l'idea di patrocinare appunto questo bel evento da parte del comune? Appunto perché è un bel evento, è una bella idea che ha avuto Assunta Carlino e la sua associazione, Assunta Carlino che è un'operatrice brillante della nostra città. Sembrerebbe una cosa strana in un momento storico così complicato, a volte drammatico per le vicende emergenziali che attanagliano le comunità, fare un corso di Bonton e secondo me invece è esattamente il contrario, cioè riuscire a insegnare ai bambini e anche agli adulti la buona educazione, il rispetto per le regole è un segnale importante che passa attraverso un messaggio di tipo culturale. Questo secondo me è l'anima dell'organizzazione dell'evento appunto che ha fatto e che ci ha proposto Assunta Carlino e non c'è ragione per la quale il comune di Castelverano non debba patrocinarla.